I fondi vengono prelevati dal conto e vedi subito un segno meno. Un altro aspetto interessante della carta di credito è che ti permette di dilazionare i pagamenti, pagando ovviamente degli interessi. La carta di debito o comunemente chiamato banco, ma in Italia, ti permette comunque di fare acquisti sia in negozi fisici che online. Non hanno però altri vantaggi che hanno le carte di credito, come ad esempio programmi fedeltà, assicurazioni o protezioni contro frodi. Tu quale usi di più, la carta di debito o la carta di credito? Fammelo sapere nei commenti.